Sì. Benvenuti a tutti a questo nostro secondo incontro dei dialoghi con la scienza. Vi ringrazio, vi ringraziamo naturalmente insieme a tutti i promotori di questa iniziativa della vostra presenza. Ringraziamo oggi in particolare il rettore della nostra università, professor Giancarlo Avanzi, che è con noi e che in qualche modo, insomma, l'Università del Piemonte Orientale ha dato un grosso contributo, insomma, a questa organizzazione della manifestazione. Tant'è vero che oggi ospitiamo anche il professore Enrico Ferrero, docente dell'Università del Piemonte Orientale. Oggi, come sapete, il dialogo è tra Paola Catapano e mi permetto di dire solo due parole velocissime, non tanto sulla biografia che tutti ormai conoscono, dirò anche questo, ma sulla sua determinazione è veramente straordinaria. Paola Catapano è partita ieri da Ginevra per essere qui questa mattina, anzi ieri sera è arrivata, nonostante insomma una difficoltà notevole, perché ha avuto un problema, insomma, ad una gamba, ad un intervento, insomma, due. Però stamattina gli ho detto grazie per questo, davvero, questo intervento e per questa tua disponibilità, mi ha risposto, insomma, una che è stata in Antartide può anche permettersi di fare un viaggio così. Quindi grazie davvero di essere venuta con noi. Paola Catapano è un'esperta riconosciuta a livello internazionale nella comunicazione della scienza, tecnologia al CERN, è giornalista scientifico, multilingue, autrice e conduttrice televisiva. Attualmente dirige il servizio di comunicazione multimediale al CERN di Ginevra nell'ambito del gruppo comunicazione della direzione generale. Lavora al CERN dal 1990, laureata in interpretazione simultanea presso la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste, in inglese, francese, portoghese, tedesco, insomma, donna eclettica anche nell'ambito della sua preparazione. Ha un master in giornalismo scientifico della Sissa di Trieste e poi numerosissimi altri, naturalmente, titoli accademici e non solo, ma soprattutto ha seguito spedizioni di ricerca in località estreme dall'Antardide, dove ha trascorso oltre un mese, producendo anche quattro documentari per Rai Educational, di cui sicuramente, insomma, stamattina avremo anche una presentazione, ci immergeremo, insomma, in questi suoi meravigliosi viaggi. Ringrazio anche il professor Ferreno, che invece ha conseguito il dottorato di ricerca in geofisica ed è diventato ricercatore presso la nostra Università del Piemonte Orientale, che è molto bello pensarlo, perché, insomma, come tutti saprete, per la città e non solo, l'Università del Piemonte Orientale è un fiore all'occhiello ed è un'università di prestigio riconosciuta a tutti i livelli e noi siamo molto contenti, naturalmente, di collaborare con l'Università. È professore associato e nel 2014 ha conseguito l'abilitazione nazionale per il professor ordinario, associato di ricerca presso l'Istituto per le Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fa parte del Collegio dei Docenti e del Dottorato Internazionale in sviluppo sostenibile e cooperazione e i suoi principali campi di ricerca sono la fisica dell'atmosfera, la meteorologia dello Stato dello Stato limite atmosferico, la turbolenza, la modellizzazione della dispersione di inquinanti in atmosfera, i modelli fisici e numerici. È membro del Comitato Editoriale di riviste scientifiche internazionali e quindi, come vedete, abbiamo due persone straordinarie che oggi ci daranno vita a questo nostro secondo dialogo. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti. Poco cavallerescamente inizio io, ma ci alterneremo nelle varie presentazioni di immagini e alcuni argomenti in cui cercheremo di approfondire anche magari un pochino più tecnicamente. E voglio entrare subito nel vivo della questione che è sostanzialmente quella dei cambiamenti climatici perché questa data che è stata programmata ci permette di essere proprio in coincidenza con la chiusura della COP26. Non so se tutti voi sapete che cosa sono queste COP e queste conferenze delle parti sul clima che da anni si svolgono a livello internazionale e con la partecipazione, questo ha visto quasi 200 Paesi partecipare, e lo scopo ovviamente è quello di cercare in qualche modo di affrontare questa crisi climatica, questo problema dei cambiamenti climatici. Era molto attesa questa COP che peraltro avrebbe dovuto tenersi l'anno scorso, poi per la pandemia è stata rimandata, per diverse ragioni. Non ultima anche questa COP vede l'Italia come coorganizzatrice insieme all'Inghilterra. Tutti sappiamo che si è svolta a Glasgow, ma in realtà l'Italia ha fatto una grossa parte anche dal punto di vista dell'organizzazione che secondo me è una cosa molto significativa perché vuol dire che è un impegno proprio chiaro, ufficiale di fronte a tutti che l'Italia fa su questo fronte, cosa non scontata perché fino a pochi anni fa eravamo molto indietro su questo tema. Questa era molto attesa, dicevo, perché dalla COP21 che si è svolta nel 2015, che ha posto le basi per quello che deve essere appunto la lotta ai cambiamenti climatici e cioè ha stabilito il limite oltre al quale non si può andare come temperatura media globale, che è questo valore di 1.5 gradi centigradi oltre i valori preindustriali che si prendono come riferimento proprio perché i cambiamenti climatici e il global warming sono dovuti all'industrializzazione, all'azione umana. Ormai anche questo è riconosciuto da tutti, o quasi da tutti, il 99%. E quindi questo era stato un grande risultato nel 2015, ma poi nelle COP successive, quindi dalla 21 alla 26, non si è data attuazione a questo programma, non si sono trovati degli accordi. Allora il fatto è che c'è un problema scientifico e c'è un problema politico, ovviamente c'è un problema che ha delle implicazioni economiche e così via. E quindi insomma c'era molta attesa. E ieri si è conclusa e quindi la domanda che ci si pone è come è andata, è andata bene, è andata male? Ma non so, magari ciascuno di voi si è fatto un'idea oggi così sfogliando un pochino le testate dei giornali, cercando di capire perché il problema non è semplice, ci sono poi impressioni diverse, per qualcuno ci sono stati dei risultati importanti, per altri invece un fallimento perché su certe cose invece non si è arrivato a delle conclusioni. Mi sono appuntato qua alcune cose che appunto sfogliando i giornali ho trovato. Allora uno dei risultati è lo stop al finanziamento pubblico per i combustibili fossili, quindi gli stati dal punto di vista pubblico non metteranno più denaro nello sviluppo dei combustibili fossili e quindi si andrà verso quelle che sono le energie alternative, le energie soprattutto rinnovabili. Sappiamo tutti che stiamo facendo la transizione ecologica proprio in questo senso. Poi c'è stato molto questo tema delle foreste, della cura delle foreste che è un importante fatto, è un importante problema da affrontare, quindi eliminare il più possibile la deforestazione perché le foreste come si dice sono il polmone, sono quelle che assorbono la CO2 e quindi permettono di ridurre quella quantità di CO2 in eccesso che è quella che porta ai cambiamenti climatici, poi magari ne parleremo in maniera più approfondita. Quindi addirittura sembra che in alcune zone della Mazzonia si sia quasi invertito il trend, l'andamento, quindi invece di assorbire CO2 le foreste non riescono più a assorbire e quindi addirittura diventano produttrici di CO2. Quindi la situazione è in serie e su questo sembra che si sia messo mano. Poi c'è la questione del carbone che è uno dei principali combustibili produttori che vengono usati ed è uno dei principali produttori appunto di CO2. Allora su questo c'è stato un po' un giallo finale come insomma in tutte queste situazioni succede perché sembrava che nell'accordo finale appunto dovesse esserci lo stop definitivo all'uso del carbone, invece si è cambiata una parolina e quindi nell'accordo compare la parola riduzione che è una cosa ben diversa e questo per un'azione dovuta all'India, come sapete ci sono dei paesi che sono in via di sviluppo e che quindi vedono di difficoltà queste riduzioni dell'uso di questi combustibili che sono necessari al loro sviluppo. Comunque diciamo l'accordo generale rimane il limite dell'1,5 gradi che anche questo è un fatto importante perché insomma uno tende sempre, man mano che si avvicina alla scadenza vuole spostarla un po' più avanti e quindi c'era il rischio che ci fosse questo spostamento invece non c'è stato e invece d'altra parte non si è concluso molto sulla questione dei finanziamenti ai paesi poveri i paesi poveri sono quelli che subiscono di più gli effetti dei cambiamenti climatici e sono quelli che hanno ovviamente meno risorse e quindi in un consesso come questo dove diciamo si mettono insieme tutti i paesi si spera si dovrebbe fare in modo che i paesi ricchi aiutino in qualche modo proprio dal punto di vista finanziario i paesi poveri ma su questo per ora non c'è stato nessuna ancora accordo preciso. Poi c'è da dire che comunque dopo la fine in cui c'è questo accordo ovviamente le cose continueranno, le discussioni continueranno. L'altra questione importante è che la riduzione delle emissioni si è fissata nel 45% in nove anni rispetto al livello livello del 2010 che sembrerebbe un bel numero 45% però è del 2010 quindi dal 2010 queste emissioni invece sono aumentate e stanno aumentando del 13% quindi non è così ottimistica la cosa. Bene questo mi sembrava interessante dare un po' questa visione perché è il quadro generale della questione ma i cambiamenti climatici come li vediamo come li osserviamo? Probabilmente noi che viviamo in zone cosiddette temperate abbiamo qualche percezione anche di questo magari parleremo ma non così forte invece magari bisogna fare dei viaggi andare un po' più lontano per essere proprio testimoni oculari e qua abbiamo la fortuna di avere una testimona oculare che ci potrà raccontare direttamente quello che fa. Lei mi ha detto nel tempo libero adesso voi vedrete come trascorre il tempo libero Paola Catrapano. Grazie Enrico. La prossima slide per favore. Allora una cosa che volevo dire mi spiace che le immagini non rendono proprio per come sono belle perché questi posti c'è ancora tanta bellezza in Artico e in Antartide. Effettivamente sì io questi viaggi li faccio nel tempo tra virgolette libero perché lavoro in maniera permanente al CERN e prendo dei congedi non pagati per seguire queste spedizioni di ricerca. Ho iniziato nel 2005 quando per una serie di vicende fortuite sono stata selezionata come giornalista ospite della ventunesima spedizione italiana di ricerca in Antartide. Qua vedete qualche immagine. Lì già ho avuto modo di vedere direttamente i gas Serra intrappolati nel ghiaccio antartico, un ghiaccio che non si scioglie da un milione di anni nell'ambito del progetto EPICA, un progetto diretto da un italiano, Walter Maggi, dell'Università di Milano Bicocca, glaciologo, che è consistito nell'estrarre la più grande carota glaciale, la più lunga, dopo Vostok, sulla calotta antartica nel cosiddetto Dome Sea, che è una zona in cui c'è ghiaccio per 4 chilometri sotto i piedi. E estraendo queste carote si riesce a analizzare il contenuto di gas Serra, in particolare CO2 metano, che si è accumulato ed è rimasto come in un archivio conservato, congelato, in questo ghiaccio, partendo proprio dalla calotta, dallo zoccolo continentale, fino all'ultimo ghiaccio, che è quello più recente. Lì si è visto una curva assolutamente correlata fra le attività industriali e l'aumento del contenuto di gas Serra all'interno di questa carota glaciale. Questo era il 2005-2006 e già lì io mi sono detta ma perché c'è ancora bisogno di cercare prove? E qui la prova ce l'abbiamo sotto gli occhi e ce l'abbiamo anche comunque nei cambiamenti del clima in tutti i paesi. Adesso in Italia, in Sicilia ci sono stati tsunami, fenomeni estremi che nessuno, i nostri nonni, i nostri bisnonni non ricordano di aver mai visto, non ci sono proprio, non c'è storia di questi fenomeni. E lì avevamo la prova sotto gli occhi. Da quel momento mi sono appassionata per il tema dell'Artico, sono una convinta divulgatrice scientifica, penso che tutti noi abbiamo bisogno di scienza, che la scienza non deve allontanare, non deve far paura a nessuno, ne sono la prova concreta. Non ho una formazione scientifica da cercatrice, ho iniziato un dottorato di ricerca in linguistica computazionale, ma appunto, poi l'ho abbandonato perché fare l'interprete mi faceva guadagnare di più e dopo sono finita al CERN dove faccio comunicazione, ho imparato tante cose della fisica delle particelle elementari, la cosmologia, ho scritto un libro sulle onde gravitazionali, quindi sono la prova concreta che la scienza non deve far paura a nessuno, perché i concetti scientifici poi sono semplici da capire e c'è una logica assolutamente schiacciante, quindi convince chiunque, chiunque abbia uno spirito, una mente aperta. E invece quello che è difficile è fare la ricerca, è fare la scienza, però le conclusioni della scienza sono accessibili a tutti noi, per cui da quel momento mi sono appassionata anche di scienze ambientali e ho fatto anche altri viaggi, in particolare in Artico, la prossima. Ecco, questa è un'immagine del nostro Polar Quest nel 2018, dove siamo andati in barca a vela appunto per lasciare la minima impronta possibile in queste zone, una barca a vela di dimensioni normali, 18 metri, al Svalbard, che è la terra, diciamo, più vicina all'Artico. Questa spedizione è stata organizzata da me facendo fundraising, raccogliendo istituti scientifici che volevano fare progetti di ricerca da una barca a vela, che è una cosa abbastanza recente, piuttosto che andare con grosse rompighiaccio, si riesce in barca a vela intanto a raggiungere destinazioni impossibili da raggiungere alle rompighiaccio, alle navi più grandi, e poi comunque c'è un impatto molto più basso e anche un costo molto più basso. Il costo di una giornata di rompighiaccio equivale a tre mesi di una spedizione di questo tipo. Avevamo quattro progetti di ricerca a bordo, la nostra intenzione, ho fondato un'associazione proprio per fare questa spedizione. La nostra intenzione era in particolare comunicare anche contemporaneamente a fare la ricerca, proprio come avevo visto in Antartide nel 2005. È importantissimo affiancare un comunicatore a chi fa ricerca, perché chi fa ricerca ha il cervello completamente impegnato a fare il suo mestiere, poi si deve anche comunicare, imparare la comunicazione, gli si chiede anche troppo. Prossima. Dunque, perché le zone polari sono importanti? Sono importanti perché per i ricercatori sono un laboratorio unico per fare ricerca, ricerca di vario tipo, dall'astrofisica, si può fare astronomia, per esempio in Antartide, in Artico, approfittando del fatto che c'è buio per praticamente sei mesi dell'anno, essendo ai poli. Le scienze ambientali, perché lì l'impatto di quello che uno fa è proprio come il laboratorio, ci sono talmente puri questi parametri che determinano, ad esempio, il clima, che sono l'atmosfera, l'acqua sotto tutte le sue forme, sotto forma di mare, ma anche sotto forma di ghiaccio, e sono lì davanti ai nostri occhi. Quindi l'impatto è misurabile istantaneamente. Per di più sono zone lontanissime dall'abitato, dalle zone urbanizzate, dove tipicamente si produce e si consuma. In Antartide, che è un continente una volta e mezzo l'Europa come dimensioni, ci vivono a stento, e non permanentemente, 4.000 ricercatori all'anno. E non ci ha mai vissuto nessuno, non c'è stata mai una forma di umanità. In Artico è un po' diverso, perché essendo vicino all'emisfero boreale, il nostro emisfero, ci si arriva più facilmente, e diciamo, ci sono state persone, in particolare alle Svalbard, che è una zona che gode di una situazione particolare dal punto di vista climatico, perché arriva fin lì la corrente del Golfo, sulla costa occidentale. Quindi è una zona che dal 1600-1500 è stata frequentata da balenieri, cacciatori di balene, esploratori che volevano andare in Artico, perché appunto è la terra più accessibile, più vicina al polo nord. E poi, in seguito alle Svalbard in particolare, si sono trovate miniere di carbone, quindi c'è stato lo sfruttamento del carbone, che adesso è finito anche quello. E ora c'è ricerca e, assieme alla ricerca, anche turismo. Altre zone così vicine al polo non godono di questa situazione di accessibilità. Per esempio l'arcipelago di Franz Josef, che è russo, un po' più a est, è deglaciato solo 15 giorni all'anno, mentre le Svalbard noi abbiamo fatto una circunnavigazione dell'intero arcipelago. Quindi importanza delle zone polari per la ricerca, importanza fondamentale per l'equilibrio climatico del pianeta, perché proprio lì questi parametri semplici che determinano il nostro clima, l'aria, l'atmosfera, l'acqua ghiacciata, l'acqua del mare, e l'interazione fra questi parametri, e poi le superfici bianche che riflettono il calore in atmosfera, creano dei meccanismi, cosiddetti di feedback, che se vengono sconvolti e perturbati, perturbano il clima di tutto il pianeta, perché poi alla fine, come sappiamo, il pianeta è uno, l'aria e l'atmosfera circolano, le correnti marine circolano, quindi quello che succede in un posto immediatamente ha effetti in un altro posto, il famoso effetto caos di Lawrence. Il battito delle ali di una farfalla in Canada può provocare uno tsunami in Brasile. Giusto, professore? Giusto, giusto. Adesso però sul clima siamo oltre il battito di una farfalla, abbiamo il battito di qualcosa che è molto più forte. E giusto, si può andare in queste zone quasi inaccessibili a cercare gli effetti dei cambiamenti climatici, ma fortunatamente o sfortunatamente spesso questi effetti vengono loro a cercare noi. e sto parlando di quello che ho già accennato, degli eventi estremi. Questo è qualche cosa che tutti noi vediamo sempre più frequentemente. Cosa succede? Succede che certi fenomeni tipicamente meteorologici, come precipitazioni o venti che avevano un loro andamento nella normalità, almeno quelli come me che hanno una certa età, hanno una loro serie storica personale da cui attingere per confrontarsi. e negli ultimi anni questi si sono intensificati, e sono molto più forti. Quindi vediamo queste precipitazioni, poi appunto sono chiamati tornadi, tempeste, a volte anche con dei termini impropri, però sostanzialmente sono una quantità di millimetri di pioggia che cade magari nel giro di un paio di giorni che equivale a quella che è la media annuale di precipitazione. che è cambiata un po', ma non tantissimo. Cosa succede? Che ci sono dei lunghi periodi di siccità, quindi non piove, questo provoca ovviamente dei danni, per esempio all'agricoltura, e poi piove tutto insieme nel giro di due giorni, per cui se uno poi va a vedere sull'anno, più o meno la pioggia è quella, ci sono delle variazioni ma non così forti. Ma è proprio queste caratteristiche, questi eventi che ovviamente sono poi anche catastrofici, perché poi si riversano sul territorio che spesso non è attrezzato per rispondere in maniera adeguata e quindi sono dei danni. Quindi qua si introduce anche quel tema che è quello dell'adattamento, che si parla di mitigazione, nel senso della riduzione di tutte quelle che sono le cause che generano i cambiamenti climatici, quindi le emissioni di gas clima alteranti e così via. Ma ormai, siccome siamo dentro, e appunto lo vediamo da questi fatti, ai cambiamenti climatici, noi dobbiamo adattarci, cioè dobbiamo trovare delle soluzioni per far sì che l'impatto sia sempre minore, sia ridotto il più possibile. E assieme a questi effetti, c'è un altro effetto importante, che è quello della variabilità climatica, cioè il clima diventa, oltre che essere caratterizzato, appunto, principalmente da un aumento di temperatura, però questo aumento di temperatura genera un aumento dell'energia globale che c'è nel sistema terrestre, e questa energia si può sfogare in vari modi, appunto, questi esempi che ho fatto, degli eventi estremi. Ma non è detto che sia sempre, come dire, quello che ci si aspetta, cioè che si vada verso caldi estremi e così via. A volte si può andare anche verso situazioni di freddo estremo, quello che qualcuno fa dire, magari, ah, ma qual è il riscaldamento globale? Qua fa un freddo che non si è mai visto, ma se si va un pochino più, meglio ad approfondire la cosa, la motivazione è sempre quella, appunto, del cambiamento climatico. Un esempio proprio a proposito del Polo Nord è l'effetto del vortice polare. Voi immaginate una circolazione sopra il Polo Nord, l'aria si muove con un vortice che ha una sua stabilità, aveva una sua stabilità. A causa, appunto, dell'aumento di temperatura ha perso questa sua stabilità e quindi questo vortice, come un elastico molle, comincia a oscillare verso nord e verso sud. E, ovviamente, se va verso sud, porta dell'aria fredda verso latitudini più basse e quindi crea degli eventi di freddo intenso, magari a latitudine dove normalmente le temperature sono più temperate. E viceversa, magari crea delle situazioni più temperate laddove normalmente, appunto, gli orsi sono abituati a stare sul ghiaccio e invece si trovano magari a dover stare sulla terra senza più ghiaccio. Infatti, un commento sugli orsi. Vedete questa mamma orsa a un collare. Le foto sono tutte nostre, della spedizione le ha fatta il mio compagno che mi segue in questi viaggi. La mamma orsa è traccata, cioè quello è un tracker satellitare e gli orsi sono una sentinella, una delle sentinelle che ti fanno capire come cambia il clima, perché cambia il loro rapporto con l'ambiente. Adesso alle Svalbard ci sono due popolazioni separate di orsi. Una che insegue la banchisa, perché per nutrire cuccioli in particolare, ma anche loro stessi, devono catturare foche e lo fanno dalla banchisa, dal ghiaccio. Loro hanno un fiuto pazzesco, fiutano la foca a due chilometri. L'ursus marittimus è un animale marino, nuota benissimo, ma non tanto bene quanto la foca. Per cui ha bisogno di stare sul ghiaccio e sa esattamente quando la foca passa sotto il suo iceberg, sfonda l'iceberg con le zampe anteriori, fa un buco, cattura il cucciolo di foca, lo mangia così e poi lascia il resto sul ghiaccio. Quindi loro si nutrono di questo grasso di foca e stanno bene per una o due settimane. Non hanno bisogno di catturare una foca ogni giorno. Per cui loro sono in equilibrio con il loro ambiente. Non è perché loro mangiano le foche che le foche si stingono. Loro ne mangiano una. Ogni due settimane stanno a posto e le foche continuano a vivere bellamente. Ecco, questi orsi qua si stanno spostando sempre più a nord con la banchisa e sempre più verso Franz Josef. Mentre quelli più stanziali hanno cambiato il tipo di alimentazione. Mangiano le renne quando le trovano. Ce ne sono tante in realtà, ma finora le renne non avevano paura degli orsi e quindi neanche fuggivano nella loro presenza. Mangiano addirittura i licheni e mangiano un sacco di plastica. E vanno sempre di più nelle zone abitate. Ad esempio, quest'estate, c'è stata un'allarme orsi a Niollesund, nella base artica, dove c'è anche la base di ricerca italiana di cui parliamo. Ci sono state allarme orsi tipo una volta alla settimana o due volte alla settimana. C'era un orso stanziale che veniva continuamente a frugare nelle spazzature e sono animali pericolosissimi. Sono animali che possono attaccarti e mangiano la persona viva. È successo, è successo l'anno scorso in Artico, a Longyearbyen, davanti all'aeroporto, che un orso ha divorato il direttore del campeggio che sta proprio davanti lì e l'ha mangiato dalla sua tenda. Cioè succedono incidenti con gli orsi ogni anno. Infatti per andare in giro lì bisogna avere il fucile, saperlo usare e non un fucile qualsiasi, un fucile da 5 kg, un Mauser della Prima Guerra Mondiale tedesco perché ha il calibro sufficiente ad abbattere un animale del genere. Questo animale è un animale fantastico perché corre e nuota più velocemente di qualsiasi altro animale a parte appunto le foche e le balene, ma corre ugualmente velocemente e ha un fiuto incredibile. A due chilometri sente la preda e se decide di acchiappare la preda lo fa in maniera velocissima non c'è assolutamente niente da fare. Per cui, ecco, questo. Prossima, come dicevo, sono ritornata, questo era Polar Quest 2018, riprendiamo un attimo questo viaggio che è stato eccezionale, che abbiamo effettuato in occasione del novantesimo anniversario della vicenda del dirigibile Italia. Dirigibile Italia perché? Perché non per quello che uno ricorda, cioè il fatto che sia finito sul PAC artico e poi siano sopravvissute otto persone su sedici con uno sforzo internazionale di salvataggio mai visto prima in cui sono morte moltissime altre persone. È morto lo stesso Roald Amundsen, l'eroe polare, con cui Umberto Nobile aveva conquistato il polo indirigibile due anni prima, nel 1926. Quello che volevamo ricordare noi di questa spedizione è la sua valenza scientifica. È il fatto che, intanto che un italiano ha conquistato il polo nord con un dirigibile da lui costruito, il Norge, che è stato ribattezzato Norge, ma era un dirigibile fatto a Roma, da Umberto Nobile e il suo team. Guardiamo la prossima. E poi dopo che, proprio perché nel 1926 la spedizione era stata puramente di conquista ed esplorazione come Amundsen voleva fare, aveva già conquistato il primo uomo a fare il passaggio nord-ovest, il primo uomo a conquistare il polo sud a piedi e con le slitte, e voleva essere anche il primo uomo a nord, ce l'ha fatta grazie a Nobile, perché il dirigibile re italiano e il comandante pure, e anche gran parte dell'equipaggio, la maggior parte dell'equipaggio. Nobile è voluto ritornare in Artico per fare scienza. E l'Italia è stato il primo Skylab della storia, il primo laboratorio volante perfettamente attrezzato che andava in Artico per quel motivo. Quindi Nobile fu un visionario perché capì non soltanto l'importanza di studiare queste regioni. All'epoca non si sapeva neanche come era fatto il polo, ci avevamo passati sopra per poche ore e poi nessuno aveva esplorato davvero. Non si sapeva se c'erano terre emerse, se si sospettava l'esistenza di isole, ma aveva anche capito che c'era una valenza proprio per lo studio del clima e lo studio della glaciologia. E poi c'era un esperimento di fisica, di astrofisica a bordo, un esperimento di raggi cosmici che fu anche cruciale, questo si è scoperto proprio grazie alla nostra spedizione, per il Nobel a Victor S che scoprì i raggi cosmici, ma appunto la comunità scientifica era divisa, non tutti erano d'accordo che questa radiazione che si misurava sulla Terra venisse dal cosmo e S l'aveva misurata su un pallone erostatico salendo oltre 5.000 metri di quota e vedendo che la radiazione aumentava invece che diminuire, quindi se venisse dalla Terra doveva diminuire salendo in quota, invece aumentava. E sull'Italia c'erano due scienziati, un italiano, Aldo Pontremoli, che purtroppo volò via col dirigibile, e che aveva attrezzato il laboratorio scientifico a bordo del dirigibile e che era un fisico della scuola di Enrico Fermi, anzi del livello di Enrico Fermi, è stato uno dei primi tre professori di fisica teorica nelle università italiane, assieme a Fermi e Persico. E poi c'era un altro grande fisico, Franticek Beunek, cecoslovacco, che era allievo di Marie Curie ed era esperto di questa radiazione. Gli esperimenti di Beunek, che sopravvisse al crash e continuò a fare misure anche durante i 48 giorni sul pack di arditissima sopravvivenza, sul pack il ghiaccio artico che si muove sul mare, e che nonostante questo lui continuò, stando in questa tenda, famosa tenda rossa, che era sempre più bagnata ed erano sempre in attesa di questi soccorsi che non arrivavano mai, lui misurava raggi cosmici. Quindi noi abbiamo rifatto gli stessi esperimenti, invece di usare un indeligibile, prossima, abbiamo utilizzato una barca a vela. Con questa barca a vela abbiamo avuto la fortuna di riuscire a circombanificare tutto l'arcipelago delle Svalbard, cosa che un navigatore quando parte dice io ci provo, ma il 90% non si riesce. Non si riesce perché il ghiaccio dal polo, anche d'estate, si stacca e impedisce a una barca a vela, cioè o hai la rompighiaccio oppure non lo fai. Una barca a vela, seppur attrezzata con lo scafone alluminio e così via, normalmente non riesce a fare tutta la circonnavigazione. Noi quell'anno abbiamo avuto una situazione anomala che capita una volta ogni 5-6 anni, forse 10 anni, di un mare completamente deglaciato a fine luglio, inizio agosto, che ci ha consentito di circonnavigare l'intero arcipelago addirittura andando a est dell'isola di nord-est e quindi di raggiungere il luogo in cui sospettiamo ci sia il resto dell'involucro del dirigibile, quell'involucro che volò via dopo aver lasciato la navicella e otto uomini, anzi nove, uno morì sul colpo, otto sopravvissero, sul PAC e altri sette, sei, anzi, volarono via con l'involucro. Ebbene, utilizzando calcolo scientifico di alta performance, individuato la zona dove dovrebbe essere questo involucro e i resti dell'involucro per capire il mistero che questa storia porta con sé e avevamo a bordo un sonar multibimer in 3D che la ditta che lo produce una start-up norvegese ci ha affidato perché voleva proprio testarlo in queste condizioni. Noi abbiamo raggiunto la zona ma abbiamo avuto solo sette ore a disposizione prima dell'arrivo di una grossa tempesta che ci portava i ghiacci dal polo e siamo riusciti a scannerizzare questa zona per sette ore scoprendo qualcosa non i resti del dirigibile perché ci vorrebbero almeno due mesi di ricerche per essere sicuri di veramente avere tutto lo scanning di quella zona lì che è molto vasta sono 25 km quadrati ma abbiamo trovato gli ancoraggi di antichi ghiacciai di cui nessun geologo e glaciologo conosceva l'esistenza si sapeva che c'erano questi ghiacciai a sud delle Svalbard ma non a nord-est fra Svalbard e Franz Josef e sono ghiacciai che risalgono all'ultima età del ghiaccio circa 20 milioni di anni fa oltre a fare questo progetto di ricerca che non era quello principale anche quello non sapevamo se avremmo raggiunto la zona e quindi era la ciliegina sulla torta in realtà i progetti principali veri sono stati rifare misure di radiazione cosmica con strumenti sviluppati al CERN fra l'altro Citizen Science sviluppati da ragazzi dei licei svizzeri norvegesi italiani avevamo 40 ragazzi che hanno supervisionati da fisici costruito questo strumento e ci siamo portati in barca e grazie a questo siamo riusciti a fare la misura ancora oggi record nessuno ha mai misurato a una latitudine così alta i raggi cosmici a polo sud sì perché è sempre ghiaccio ci si va a polo nord siccome il ghiaccio si scioglie è più difficile andare noi abbiamo la misura più elevata di raggi cosmici abbiamo ovviamente preso questo è uno strumento passivo che misura radiazione cosmica sempre ma l'abbiamo portato all'oltre l'ottantaduesimo parallelo e poi l'altro progetto importante è stato quello sulle microplastiche di cui parliamo ampiamente in seguito e infine come vedete in questa foto in basso siamo arrivati anche sul punto dove il dirigibile ha mandato il primo SOS 24 ore dopo la caduta perché poi essendo vivi ed essendo o militari specializzati o scienziati questi documentavano giorno per giorno quello che succedeva e documentavano la posizione presa col sestante quindi siamo andati sulla prima posizione presa col sestante dall'equipaggio di Nobile e abbiamo letto una preghiera a tutti ai dispersi è stata la prima volta che c'è stata una commemorazione così di quel gruppo di italiani finiti non si sa dove e abbiamo avuto ovviamente dietro tutte le loro famiglie discendenti che ci sono stati e sono stati molto vicini sono venuti alle Svalbar alla nostra partenza ci hanno dato degli oggetti da mettere in mare avevo chiesto di non darci oggetti di plastica avevamo una croce di legno con tutte le iscrizioni i gagliardetti della marina e dell'aeronautica me li sono portati a casa perché lì c'era plastica e quindi questo è stato anche un momento molto emozionante di questa vicenda tutto è documentato in un documentario che si chiama Nanook come il nome della barca e che è stato trasmesso da Focus TV e si trova su Media Play su Mediaset Play quindi cercatelo Nanook la prossima la barca a vela che abbiamo utilizzato qui la vedete in una precedente spedizione Nanook vuol dire orso bianco in lingua inuit il suo skipper è un mio amico siamo nello stesso yachting club lo yachting club del CERN abbiamo anche uno yachting club e lui è un convinto ambientalista un bravissimo navigatore e anche un ingegnere architetto specializzato in architettura passiva ha costruito questa barca partendo da un integral una barca che esiste in commercio ma si è fatto fare lo scafo in alluminio e dopodiché l'ha costruita secondo criteri dell'architettura passiva e per dimostrare che questo funziona è andato in Groenlandia all'ottantunesimo parallelo sulla costa ovest della Groenlandia quindi ha fatto tutta partendo dalla Francia ha attraversato l'oceano Atlantico verso ovest ha circunnavigato la Groenlandia e si è messo sull'ottantunesimo parallelo lontano da qualsiasi civiltà c'era un villaggio inuita mezz'ora di slitta nel ghiaccio appositamente per dimostrare che la sua barca consente di stare con meno 47 fuori senza riscaldare l'interno quindi lui non ha questa barca è molto spartana devo dire io ho perso 7 kg in questo viaggio perché fuori non ha un cockpit coperto ad esempio quando si è in turno fuori soprattutto la costa est dell'Esvalbard lì si consumano calorie pur mangiando di tutto e sempre ma lui è stato con suo figlio di 14 anni 8 mesi nel ghiaccio della Groenlandia senza utilizzare combustibili fossili per riscaldare l'interno della barca per avere una ventilazione che non fosse a meno 47 ha utilizzato una pompa a calore che sfruttava il gradiente termico fra la superficie sopra il ghiaccio meno 47 e quella sotto dell'acqua marina liquida a meno 3 gradi quindi aveva una ventilazione a meno 3 ma in barca loro due erano in maglietta all'interno di questa barca poi la barca è anche costruita secondo il modello della Fram di Nansen per cui può essere una geometria tale che viene sollevata dal ghiaccio senza che questo ne danneggi lo scafo e il suo messaggio è possibile è possibile come appunto non c'è bisogno di fare chissà cosa per lasciare meno impronta e per riscaldare di meno l'ambiente intorno a noi basta costruire secondo architettura passiva vediamo la prossima Nanook ha un cockpit quello appunto dove si abita che ha uno spessore fatto così anche i vetri degli oblò sono estremamente spessi lui ha investito in questo tipo di costruzione e ha dimostrato che non è una cosa chissà quale tecnologia dobbiamo aspettare si può fare subito isolare bene le nostre case per evitare dispendio di calore evitare dispendio evitare lo spreco anche nel nostro comportamento la prossima è comportamento sostenibile noi abbiamo in tre settimane di circunnavigazione dell'artico prodotto zero waste a parte ovviamente l'uso del motore diesel quando quando tu non puoi a vela cioè si può anche fare navigare solo a vela ma hai bisogno di sei mesi davanti a te per fare una cosa del genere avendo tre settimane il motore devi averlo perché se il vento è contro o se il vento non c'è devi avanzare con la barca però non avevamo altra forma di combustibile non c'era nemmeno un phon un asciugacapelli a bordo non c'era la doccia non c'era l'acqua calda ci lavavamo col guanto bagnato con l'acqua riscaldata con la teiera zero waste tutto quello che si tutti i rifiuti venivano raccolti ed erano ridotti al minimo è facile quando si ha molta fame pulire il piatto addirittura con la lingua perché eravamo sempre affamati però diciamo è un messaggio importante dire se vogliamo essere sostenibili non dobbiamo aspettare la tecnologia futuristica o chissà che cosa dobbiamo noi stessi cominciare a ridurre il nostro impatto e si può fare se si può fare in artico con meno 47 si può fare anche a casa nostra la decarbonizzazione è una cosa che deve coinvolgere tutti noi adesso passa la parola a te su questo sì sì sono assolutamente d'accordo spesso si discute di questa questione ciascuno di noi può fare qualcosa delle cose magari minime uno potrebbe dire ma no è appunto i potenti della terra devono pensarci loro la copp devono fare delle scelte eccetera è vero loro devono fare però anche il nostro contributo è importante noi lo dico sempre anche agli studenti non si discute di questa cosa perché è un po' controversa e perché poi pigramente magari uno evita di farlo con la scusa lo faccia quelli che lo devono fare ma non è così è invece un contributo importante perché noi la inquiniamo anche personalmente insomma appunto le plastiche che si ritrovano in giro sono le nostre bottigliette qua questa non avremmo dovuta magari è riciclabile ma però interessante molto questa cosa della barca senza senza necessità di essere riscaldata pensate in mezzo a questa situazione freddissima quindi perché si riesce a fare a realizzare queste cose naturalmente ci vuole una volontà ma bisogna anche conoscere quelli che sono i processi naturali come funziona il sistema il sistema terra l'atmosfera in particolare allora vorrei dirvi molto brevemente che cos'è l'effetto serra anche qui come dicevi tu poi i processi che portano alla comprensione da parte degli scienziati dei ricercatori sono magari molto complicati molto complessi ma poi il risultato invece può essere comprensibile a tutti e questo è per esempio l'effetto serra l'effetto serra è dovuto alla nostra atmosfera che è una sorta di filtro rispetto alla radiazione al tipo di radiazione elettromagnetica quindi la radiazione che ci proviene dal sole che è cosiddetta una radiazione a onda corta cioè a una lunghezza d'onda corta passa diciamo quasi del tutto attraverso l'atmosfera in parte viene un po' riflessa ma poi insomma grosso modo ci arriva tutta e questa viene assorbita dalla terra e la terra come tutti i corpi emette una propria radiazione quindi il sole emette la sua la terra emette la sua noi anche i nostri corpi anche questo tavolo questo bicchiere emettono una radiazione e questa radiazione la lunghezza d'onda è proporzionale alla temperatura allora fortunatamente mentre il sole è 6.000 kelvin la terra come sappiamo è 300 kelvin che insomma vuol dire temperature in gradi centigradi intorno ai 20 gradi che sono quelle che permettono l'esistenza della vita quindi essendo un po' più freddina emette una una radiazione che ha un'onda lunga e questa questa radiazione onda lunga invece non ce la fa a uscire dall'atmosfera o almeno a in parte viene assorbita dall'atmosfera ora questo non è un processo dannoso di per sé perché è quello che ci ha permesso di vivere fino adesso ha permesso che si sviluppasse la vita sulla terra perché in questo equilibrio tra radiazione che arriva e radiazione che se ne va si sono create le condizioni adatte alla sopravvivenza la nostra sopravvivenza e anche insomma tutto sommato al benessere su questa terra però è un equilibrio e quindi se noi andiamo ad alterare questo equilibrio ed è quello che stiamo facendo cioè buttiamo CO2 metano e altri gas climalteranti cambiamo questo equilibrio perché questi gas assorbono più questa in maniera maggiore questa radiazione che viene riemessa dalla terra e quindi invece di andare nello spazio libero rimane e quindi non può succedere nient'altro che la temperatura aumenta quindi questa è anche diciamo la spiegazione la dimostrazione che noi siamo in qualche modo la causa di questo cambiamento climatico e quindi forse dobbiamo pensare tutti come dicevo prima sia i potenti sia noi singoli cittadini a fare qualcosa per invertire questa situazione bene noi continuiamo intanto il viaggio con la prossima slide in cui vi faccio vedere abbiamo parlato delle Svalbard questa linea gialla che vedete sotto è il circolo polare artico il circolo polare artico è a circa 66 gradi di latitudine nord un po' sopra l'Islanda c'è un'isoletta dell'Islanda che è proprio sul circolo polare e Gramsci si chiama ovviamente ci sono stata perché siamo partiti più o meno da lì siamo partiti dall'Islanda con Nanook l'idea era di attraversare direttamente verso le Svalbard passando per l'isola di Jan Mayen che qualcuno di voi ricorderà è l'isola di The Perfect Storm il film con George Clooney e invece il vento ci ha portato verso era più favorevole quindi abbiamo fatto un passaggio in Groenlandia dove abbiamo fatto quella bellissima foto con l'iceberg perché gli iceberg della Groenlandia sono giganteschi la Groenlandia molto più grande delle Svalbard e rilascia in mare pezzi di ghiaccio enormi pericolosi per una barca a vela così piccolina però talmente belli che ci siamo avvicinati per fare foto poi abbiamo attraversato direttamente verso Longyearbyen la capitale delle Svalbard Svalbard è un protettorato norvegese ma in realtà è una terra un po' di conquista se la contendono i russi ci sono diverse basi russe i russi avevano miniere di carbone che non usano più ma continuano ad avere persone proprio per il loro dominio sull'Artico Longyearbyen è una città particolarissima dove la gente rimane tipicamente stagionalmente però c'è una popolazione sempre più stanziale proprio perché fa sempre più caldo anche là è bagnata la costa ovest dalla corrente del Golfo e quindi ci sono tipo duemila persone ma sono tutte concentrate lì poi siamo andati un po' più a nord sul 79esimo a Neolesund dove c'è una base di ricerca internazionale fra cui quella italiana che si chiama Dirigibile Italia e c'è ancora il pilone d'attracco del dirigibile le basi dell'hangar e quindi una cosa abbastanza commovente da vedere e dopodiché abbiamo continuato a procedere verso nord circunnavigando e ci aspettavamo la banchisa molto più vicina invece questa banchisa non c'era per cui abbiamo allungato il viaggio di qualche giorno fatte 50 miglia ancora rispetto alla punta estrema del nord orientale dell'Evesvalbard che è sull'81esimo e siamo dovuti salire fino all'82esimo per trovare finalmente la banchisa polare e poi da lì tornati verso sud ritornati a Longyearbyen questo viaggio ha preso tre settimane non abbiamo praticamente mai messo l'ancora eravamo in navigazione costante è stato bellissimo e durissimo al tempo stesso vediamo alcune foto la prossima questa è a sud dell'Evesvalbard tanto per farvi capire il mare in Artico non è cartografato bene e completamente è cartografato ora da satellite ma il satellite sbaglia spesso e in questa situazione fra l'altro c'è spessissimo nebbia chiaramente quando facciamo le foto la nebbia non c'è ma sono rare le occasioni in cui non c'è questa nebbia alle Svalbard in realtà sulla costa ovest c'è meno nebbia d'estate di solito ma adesso sta cambiando tutto anche là e qua ci siamo arrenati su delle rocce affioranti non non cartografate in bassa marea grazie no io non ero in turno dopo la traversata dalla Groenlandia eravamo abbastanza stanchi e c'era il pilota automatico e quindi eravamo in turno a vedere se c'erano gli iceberg ma la roccia sotto nessuno se l'aspettava la profondità era molto più bassa cioè la profondità indicata era tipo 50 metri ce ne erano ce ne erano 10 più la roccia quindi 0 poi siamo rimasti lì 12 ore intrappolati dalla marea poi con la marea siamo riusciti a uscire la barca è costruita anche per queste cose perché ha due derive mobili molto lunghe che abbiamo estratto subito una si è rotta ma poi l'abbiamo riparata nella base italiana e la chiglia non ha avuto nessun problema perché è di alluminio rinforzata e quindi è andata bene altra immagine ecco volevo mandare un video invece questa è quella che abbiamo visto adesso era l'immagine tipica della costa ovest dove spesso ci sono addirittura colori caraibici è meraviglioso quando è bello costa est è l'artico vero non c'è la corrente del golfo e c'è il fronte glaciale più lungo d'Europa della zona boreale non d'Europa di tutto l'emisfero boreale 200 km di ghiacciaio infinito e durante tutta la navigazione al ritorno lungo questi 200 km questi ghiacciai erano in continuo sfaldamento in continuo scioglimento alle svalbard i ghiacciai la possiamo vedere ci parlo sopra nel video ecco qua siamo in navigazione vedete a un certo punto il ghiacciaio dietro di noi che appunto sono 200 km di fronte glaciale tutto così una navigazione sotto la nebbia tutta così che perde ghiaccio di continuo facendo questo sarà stato alto 100 metri credo la bellezza delle svalbard è che arrivano questi ghiacciai direttamente al mare come se aveste le alpi che finiscono in mare che forse un giorno ci arriveremo perché saremo ricoperti di mare fino alla base delle alpi ma non ci sarà più ghiaccio in effetti non ci sarà più ghiaccio perché se c'è il mare così alto non c'è più il ghiaccio e lì provoca un'onda di tsunami il nostro navigatore il nostro skip era molto bravo si mette di prua sull'onda di tsunami e a una distanza che deve essere almeno tre volte l'altezza del ghiacciaio le svalbard sono il posto in artico che soffre di più di ritiro dei ghiacciai i ghiacciai sono in continua perdita l'abbiamo visto anche quest'estate quando sono tornata invece il prossimo video che volevo far vedere vediamo intanto la prossima slide ah ecco il ghiacciaio ancora ecco questo invece il momento in cui siamo arrivati si vede perché eravamo tutti molto infreddoliti in prossimità della banchisa porare sull'ottantaduesimo quindi questo ghiaccio uno si immagina il polo volevamo scendere metterci una tendina rossa fare delle foto impossibile ghiaccio in completo sfaldamento però con grande sacrificio siamo riusciti a fare un prelievo di microplastica con la mantanet lassù e con grande sgomento abbiamo trovato plastica visibile all'occhio nudo sulla banchisa polare lontanissimo da qualsiasi zona abitata perché fra lì e il nord delle Svalbard che è comunque disabitato c'erano almeno 100 miglia marine quindi il problema della plastica è un problema su cui per me questo è il messaggio più importante il messaggio della CO2 dei gas serra è importantissimo la priorità della COP è la decarbonizzazione è un problema complesso perché il problema sia di produzione che di consumo dell'energia è molto complesso cioè cambiare un paradigma di quel tipo vuol dire stravolgere completamente i nostri modi di produrre energia e di consumarla il problema della plastica invece è ugualmente preoccupante è ugualmente una emergenza planetaria però non se ne parla abbastanza secondo me e aver trovato sull'ottantaduesimo parallelo un pezzo di plastica blu visibile all'occhio nudo aver trovato su ogni spiaggia calpestata forse dagli alpini che erano alla ricerca di Umberto Nobile e poi nessuno più nel nord-est estremo delle Svalbard dove non ci va mai nessuno dove per una fortuita coincidenza di mare deglaciato noi ci siamo arrivati e trovarla invasa da plastica trovare tappetini di auto addirittura secchielli da spiaggia bidoni per me è stato sconvolgente soprattutto perché poi parlando con gli scienziati per i quali abbiamo raccolto questi campioni sia di macro che di microplastica le notizie sono terribili la microplastica quando si degrada in mare per processi fisico-biologici l'atmosfera l'acqua marina e così via intanto ci mette un sacco di tempo prima di biodegradarsi ma non si biodegrada rimane eterna la plastica inferiore ai 5 mm viene poi ingerita dagli animali marini più piccoli quella grande viene ingerita da quelli più grandi con i danni che vediamo perché girano immagini di balene con lo stomaco pieno di plastica orsi eccetera ma non pensiamo ad esempio allo zooplankton lo zooplankton è la base della catena alimentare la base della vita e nello zooplankton nei nostri campioni è stato trovato DNA alterato dalla plastica quindi noi stiamo minando con questa invasione di plastica la base della nostra stessa catena alimentare vediamo la prossima slide che è l'unica che presenta un grafico e non immagini reali però questi numeri sono assolutamente reali la plastica oggi è la più grande componente di materiali non biodegradabili prodotti sulla terra nel 1945 quando più o meno è iniziata la produzione se ne produceva un milione di tonnellate all'anno oggi sono più di 350 milioni di tonnellate all'anno e la crescita non si arresta c'è una crescita del 3,5% ogni anno tutta la plastica in uso oggi sul nostro pianeta rappresenta il 30% di tutta la plastica mai prodotta fin da quando è stata inventata di questa plastica solo il 9% è riciclata qua c'è scritto che le riciclano io non mi fido mai infatti io bevo l'acqua da rubinetto non compro da una vita questo non compro bottiglie e cerco di evitare soprattutto gli oggetti di monouso solo il 9% è riciclata e il 12% viene incenerita e il 79% finisce nell'ambiente finisce soprattutto visibile negli ambienti dove nessuno la può togliere per esempio in Artico chiaramente la plastica è qualcosa di cui non possiamo fare a meno è un prodotto fantastico perché ha delle proprietà fisiche uniche non si distrugge mai quindi è fantastico perché non si distrugge mai perché è proprio per come è fatta le sue molecole sono dei polimeri che sono fatti di tanti tanti monomeri sono delle catene di monomeri sono centinaia di migliaia di legami chimici e quindi è molto solida e quindi è incredibilmente durevole è incredibilmente solida però diciamo dicono che costa poco in realtà viene da derivati del petrolio ancora una volta siamo sui combustibili fossili e il suo costo è artificialmente tenuto basso perché c'è un errore proprio fondamentale in economia che si fa che si calcola il costo di produzione basta non si calcola mai il costo dello smaltimento di un oggetto questa è una cosa che bisognerebbe insegnare approfitto la presenza del rettore che ha onorato questa presentazione della sua presenza ma bisognerebbe insegnare in tutte le facoltà di economia che il costo di un prodotto deve assolutamente includere il costo dello smaltimento e quindi diciamo ci sono come dicevi tu è difficile è difficile perché rientra l'economia anche in questo discorso in particolare quello della decarbonizzazione che poi il settore energetico è ancora più complicato sì certo visto che mi hai lanciato la palla anticipo un punto che era successivo ma giusto per dire che noi la insegniamo nei nuovi corsi che abbiamo lanciato al nostro Ateneo Università del Piemonte Orientale insegniamo proprio queste cose insegniamo a vedere i problemi da tutti i punti di vista quindi non solo quello per dire ambientale ma anche quello economico e insomma a fare dell'analisi che appunto non siano così limitate a una visione superficiale ma mettono insieme tutti gli elementi e quindi questo condivido l'importanza delle cose sulle microparattiche tra l'altro non viaggiano solo in mare viaggiano anche in atmosfera sono anche trasportate dai venti quindi si stanno sviluppando adesso delle ricerche anche proprio sulla dispersione delle microplastiche da parte delle correnti atmosferiche quindi andiamo alla prossima che è forse più efficace di un grafico questa è la spiaggia degli Alpini appunto Alpini-Oia dove Gennaro Sora capitano degli Alpini ha fatto una spedizione a piedi con un olandese Van Dongen alla ricerca dei dispersi del dirigibile lì non ci vanno i turisti perché è una zona vietata dal governatore delle Svalbard proprio per proteggerla e questo è lo spettacolo che uno trova una spiaggia deserta mai abitata mai frequentata trova questo e c'è di tutto non ci sono solo residui della pesca ma appunto come dicevo prima gli oggetti più svariati i danni della plastica ne abbiamo già parlato come abbiamo detto prima volevo parlarvi della spedizione di quest'anno che un po' vediamo la prossima ha ripreso le stesse tematiche di quella precedente mi ha dato la possibilità anche di fare un confronto visivo fra quello che ho visto nel 2014 quando sono andata la prima volta 2018 e adesso dell'estate 2021 quest'estate siamo stati in Artico una barca vela sempre di alluminio questa volta italiana non ecologica quanto Nanook sicuramente più comoda invece di perdere peso qui abbiamo preso peso perché c'era il riscaldamento il cockpit era coperto e riscaldato barca italiana più confortevole però abbiamo fatto si chiama Best Explorer e il suo skipper Nanni Acquarone fra l'altro è l'unico italiano a aver fatto passaggio a nord ovest è il secondo uomo al mondo a aver fatto passaggio a nord ovest e nord est con questa barca quindi una persona anche abbastanza interessante 78 anni era il nostro skipper molto in forma le condizioni che abbiamo trovato quest'anno alle Svalbard sconvolgenti l'altra volta completamente deglaciato era anche un eccesso però diciamo è tipico nelle Svalbard avere bel tempo e una tempesta ogni tanto fra l'altro prevedibile noi siamo stati fermi a Tromso due settimane in attesa che il tempo migliorasse assieme a tante altre barche che dovevano fare attraversata nel mare di Barents e le previsioni mi scuso con lei che fa questa di mestiere erano sempre sbagliate previsioni del tempo sempre sbagliate migliora giovedì arriva giovedì no altri tre giorni impossibile attraversare abbiamo attraversato il mare di Barents nebbia costante vento contrario quando doveva esserci il sole perché a un certo punto uno parte ed è stata abbastanza dura e i progetti a bordo questa volta erano un po' diversi ma sempre sullo stesso tema ambientale abbiamo misurato vediamo la prossima DNA ambientale è un progetto di alcune università svizzere finanziate dalla Swiss Polar Foundation in cui si preleva il DNA della fauna marina dall'acqua però e dal ghiaccio e dall'atmosfera e non dall'animale che è molto più impattante sull'animale ma anche più 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 laborioso da fare e quindi il DNA ambientale è considerato un tracciatore anche del cambiamento climatico io ricordo che quando andai nel 2014 in Artico studiavano delle cozze islandesi sul fondo di Cap Mitra nel fiordo nel fiordo del re Kings Bay perché confrontando nella crescita lo stesso animale il laboratorio e si vedeva come il fatto che il fiordo del re non fosse più deglaciato è deglaciato da tanti anni ormai impediva a questa specie di nutrirsi normalmente perché si nutre di un muschio che cresce solo quando il fiordo è coperto da ghiaccio mentre essendo deglaciato non c'era più questo muschio e questa cozza cresceva lentamente quindi un marcatore dell'ambiente possono essere anche le specie con il DNA ambientale è un modo di studiare in maniera molto più vasta e anche più efficiente perché si preleva l'acqua essenzialmente poi viene analizzata in laboratorio si preleva ovviamente secondo certi criteri un protocollo molto molto specifico poi avevamo un progetto di batimetria del mare se fossimo arrivati sul punto di caduta dove si ritiene ci siano i resti del dirigibile avremmo fatto anche una scansione del mare con degli strumenti molto più potenti di quelli che avevamo nel 1918 purtroppo non ci siamo arrivati perché arrivati a nord-est c'era ghiaccio dal polo che si staccava tempeste impossibili e siamo dovuti tornare indietro e ci abbiamo messo molto più tempo 36 giorni di navigazione per fare un pezzettino che nel 2018 abbiamo fatto in meno di una settimana in quattro giorni di navigazione quindi questo per le condizioni inclementi che abbiamo trovato quest'anno e infine un progetto importante è quello della macroplastica studiata sia raccogliendo campioni sia raccogliendo legna drift galleggiante e facendo anche una scansione da drone delle stesse plastiche quelle che non potevamo portarci a casa essenzialmente volevo far vedere qualche immagine di questo viaggio perché ogni quattro giorni c'era una giornata bella la prossima questo è il fiordo di Lilleuc che abbiamo interamente scannerizzato col sonar e dove abbiamo fatto sei stazioni di prelievi di DNA ambientale sempre più vicini al fronte glaciale ci siamo avvicinati moltissimo al ghiaccio anche questo ghiacciaio continuamente in perdita con delle esplosioni perché esplode perde proprio pezzi di fronte esplode navigazione difficilissima non c'era mai andato nessuno a fare la batimetria lì dentro noi ci siamo stati 72 ore e lì c'è uno dei nostri membri di equipaggio Kevin il più giovane che ci faceva guardia dagli orsi perché bisognava sempre avere una persona armata con lo sguardo all'orso che può arrivare in qualsiasi momento prossima questo invece è un altro ghiacciaio bellissimo Lady Franklin Fjord questo ghiacciaio su questo ghiacciaio qui abbiamo fatto la batimetria completa anche questo difficilissimo arrivarci come condizioni nautiche e anche qui siamo rimasti altre 72 ore e abbiamo anche fatto qua raccolta di macroplastica vediamo giusto l'ultima l'ultima la prossima questo è un ghiacciaio molto bello sempre di Lily Oak una vista dal drone che arriva una distesa fantastica tutta bianca come dicevo gli elementi lì li vedi l'atmosfera il ghiaccio l'acqua alla fine sono sempre gli stessi elementi chimici in diverse forme che poi sono i nostri parametri fondamentali ancora un'altra questo è il punto più a nord che abbiamo raggiunto quest'anno l'isola di Lag Oia un'isola fatta di lagune di acqua dolce e sassi tanti sassi che hanno fatto la gioia di un geologo che era quello che si occupava poi della batimetria e che ci ha detto che alle Svalbard in ogni posto c'è una diversa era geologica e qui c'erano dei sassi incredibili con anche tante zone in cui si vede lo scioglimento del permafrost una spiaggia dove non ci va mai nessuno anche qua dove nessuno delle persone che ha fatto l'artico in tutti i modi è mai andata eppure cosa abbiamo trovato su questa spiaggia vediamo la prossima slide un bidone di plastica troppo grande per portarcelo a casa perché poi in barca lo spazio era limitato anche poi spedire il tutto era limitato sopra c'era scritto in italiano non disperdere nell'ambiente ora su tutta la plastica che ho visto in artico tipicamente le poche scritte che si riescono a leggere sono in cirillico perché le principali correnti vengono dai fiumi della Siberia che si gettano nell'artico e poi attraverso le correnti marine arrivano fino alle svalbard e rimangono sulle spiagge ma una cosa in italiano mi ha veramente scioccata prossima appunto abbiamo parlato delle correnti marine queste sono reti da pesca che è il rifiuto plastico più visibile viaggia inalterata su grandi distanze l'abbiamo detto perché è praticamente eterna ma perché viene instradata da queste correnti marine che sono delle vere e proprie autostrade del mare che si incrociano in alcune zone se ne sono identificate con certezza cinque si chiamano gyres gli oceanic gyres sono i vortici oceanici ce n'è uno di cui si sospetta l'esistenza in artico proprio fra la Groenlandia e le svalbard che secondo noi noi l'abbiamo identificato alcuni le chiamano isole di plastica non sono isole perché non sono cose fisse solide sono accumuli più densi di detriti plastici che si accumulano proprio all'incrocio delle varie correnti oceaniche e in artico ci dovrebbe essere la sesta isola appunto che noi molto probabilmente abbiamo trovato diciamo l'analisi di queste microplastiche macro in quella zona sono ancora in corso si deve vedere una densità e poi bisogna fare misure ripetute per vedere questo accumulo permanente comunque noi sia nella ricerca del 2018 che in questa in ogni campione in ogni atterraggio a terra abbiamo trovato rifiuti plastici in ogni campione nel filtro una quantità di microplastica molto superiore alle aspettative e ingiustificata dalla lontananza di queste zone la ricerca di quest'anno vediamo la prossima oltre a raccogliere piccoli rifiuti plastici documentarli col punto gps eccetera abbiamo anche raccolto facendo i falegnami segando legna prossima driftwood legna che non dovrebbe esserci alle svalbard perché non ci sono boschi ci sono solo licheni non cresce quasi nulla questa legna arriva normalmente dalla Siberia anche essa perché tipicamente dei boschi siberiani però quest'anno la ricerca che è a cura del CNR ISMAR di La Spezia ci hanno chiesto di portare contemporaneamente campioni di plastica quelli portabili piccoli e campioni di legna perché nel legno poi si può indovinare si può risalire all'età del tronco e si può risalire anche alla provenienza oltre a questo mandiamo il prossimo filmato oltre a questo abbiamo studiato questa plastica anche da drone perché appunto non potendo portare a casa tutti i campioni utilizzando dei video delle ortofoto fatte col drone applicando poi l'intelligenza artificiale si riesce a risalire anche alla composizione chimica dell'oggetto di plastica è importante studiarla in maniera scientifica appunto prendendola da tutti i punti di vista perché soltanto avendo una conoscenza il più completa possibile di questi oggetti si riesce a capire appunto da dove vengono la composizione quanto tempo rimangono lì e questa è una conoscenza fondamentale per poi prendere azioni che possano essere efficaci e anche realizzabili volevo mostrare ah no ecco questo volevo parlare anche di formazione di comunicazione questo filmato come tutti gli altri che ho fatto vedere li ritroviamo nel documentario appunto Nanook anche sul sito polarquest.org abbiamo fatto esposizioni quindi oltre a ricerca era importante non perché è il mio mestiere ma perché secondo me è veramente importante comunicare correttamente in maniera completa al pubblico non tramite solo titoli o grandi slogan ma comunicare davvero come si fa la ricerca perché arriviamo a certi risultati perché le persone poi non sono stupide hanno bisogno di capire e una volta che si appropriano di queste informazioni poi sono più sensibilizzate quindi questo è un po' il motivo per cui mi sforzo di fare documentari approfonditi in cui si va proprio davvero nel profondo della ricerca sì questo è un contributo molto importante perché poi mi viene in mente appunto su queste cose delle plastiche se uno va su internet vede tante foto non si sa quante siano diciamo reali corrispondono alla situazione reale quali siano insomma sensazionali c'è tutto questo problema l'informazione è accessibile in maniera molto semplice via internet insomma sui social e così via anche questo ci arriva addosso senza neanche che dobbiamo cercarla ma le fonti non sono sempre affidabili e quindi bisogna fare molta attenzione quindi è importante che ci sia qualcuno che professionalmente faccia questo mestiere se poi è un testimone oculare come in questo caso come detto è ancora più importante quindi bisogna avere anche però gli strumenti per capire per capire appunto se una notizia ha fondamento oppure no e quindi in questo la formazione è assolutamente importante e noi come università siamo appunto è una delle nostre missioni oltre che la ricerca e quindi come dicevo prima ci stiamo impegnando in questo senso ci stiamo impegnando anche però nel senso della ricerca perché un po' come viene fuori da tutti questi argomenti che abbiamo trattato queste problematiche vanno trattate appunto in maniera transdisciplinare mettendo insieme diverse discipline diverse aree culturali che lavorino insieme che affrontino i problemi il problema dei cambiamenti climatici ha dei risvolti socio-economici ha per esempio il problema delle migrazioni che possono causare dei problemi nell'agricoltura quindi nella produzione di prodotti agricoli appunto e quindi questo poi ha delle ricadute sociali e così via insomma non si può estrapolare un solo aspetto e studiarlo da solo ciascuno nel proprio stanzino nel proprio laboratorio ma bisogna mettersi insieme per questo noi abbiamo c'è qua il rettore quindi lo dico anche con con orgoglio e diciamo spirito comune e anche altri colleghi ci sono quindi dal primo gennaio noi avremo un nuovo dipartimento proprio sullo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica che ha proprio questo obiettivo l'idea di fare la ricerca in maniera trasdisciplinare vedendo tutti gli aspetti e le problematiche sui cambiamenti climatici ma non solo ovviamente e questo dipartimento sono già nati che poi afferranno a questo dipartimento corsi di laurea che citavo prima gestione ambientale sviluppo sostenibile chimica verba e quindi noi abbiamo anche come dire un po' secondo me un dovere morale di formare dei giovani che che siano consapevoli cioè che conoscano i problemi perché i giovani poi si entusiasmano giustamente fanno le manifestazioni gli sciopri del clima ci sono i Friday for Future però bisogna che lo facciano consapevolmente conoscendo davvero quali sono le problematiche da tutti i punti di vista quindi è giusto che ci sia come dire un urlo per l'emergenza ma poi bisogna bisogna agire anche in maniera consapevole e lavorare chi nella ricerca chi anche in ambito privato negli enti privati per fare questa transizione che appunto ci coinvolge tutti io ho visto che siamo andati avanti un po' in ritardo avremo altre slides ma preferisco magari mostrare l'ultima la penultima e dare la parola al pubblico se vogliono fare domande perché mi sembra che fosse previsto abbiamo pochissimo tempo chiedo scusa ma devono sanificare poi ah ok allora lasciamo fare una domanda oppure concludiamo lasciamo fare una domanda un'ultima domanda un'ultima la prima è un'ultima io non vedo adesso il pubblico perché siamo accecati dal proiettore ecco in prima fila arriva il microfono sì sì grazie allora per quanto riguarda quello che la persona singola potrebbe fare diciamo così per rendere il mondo più sostenibile che cosa si potrebbe fare in concreto al di là per esempio di una riduzione del consumo delle plastiche o una riduzione del consumo dei rifiuti cioè tutti ormai conosciamo la raccolta differenziata ma oltre a questo che cosa si potrebbe fare allora io ti ringrazio per questa domanda perché era veramente la mia conclusione un po' di cose le ho dette ridurre gli sprechi isolare meglio le case nell'ambito della plastica non dobbiamo aspettare che ci sia un governo che vieti per esempio l'utilizzo di plastica usegetta che è il 50% di quella che poi si trova in giro e quindi cominciare noi stessi con la nostra coscienza quando andiamo al supermercato e fare la spesa diventa uno stress all'inizio ma poi diventa un'abitudine l'ho provato con me stessa quando c'è plastica usegetta non comprarla per esempio io rifiuto di prendere alcune medicine perché il distributore non è usegetta e ho deciso quella non la prendo e anche se non c'è l'alternativa non la prendo veramente sono estrema in questa cosa qua plastica usegetta è semplicissimo distinguere e dire quella non la uso e dopodiché comprare cose che non hanno packaging cioè andare al mercato piuttosto che al supermercato e prendere la frutta la verdura non impacchettata ma nei sacchettini di carta sfusa così cioè ci sono l'importante è assumere un atteggiamento diverso nei confronti del nostro ambiente come fanno gli orsi gli orsi non mangiano foche tutti i giorni non si fanno i frighi per conservarle gli orsi vanno a caccia quando hanno fame e quindi anche noi dobbiamo porci con l'ambiente non in modo da dominatore ma come una persona consapevole che sa che ha un'impronta un impatto e che siamo in un momento di crisi perché questa impronta questo impatto è diventato ingestibile probabilmente neanche per colpa nostra a livello di singolo ma per colpa dei modelli di consumo di ricchezza anche di ingordigia che si sono propagati con la rivoluzione industriale sono modelli di eccesso adesso dobbiamo avere modelli di armonia col nostro ambiente noi siamo una parte dell'ambiente non siamo non abbiamo il diritto di stare meglio dell'ambiente stesso anche perché poi si rivolta contro di noi anche lo stesso virus corona da dove è uscito è uscito dalle foreste che sono troppo vicine alle città è uscito dalla deforestazione cioè normalmente rimane tranquillo ci sono migliaia di virus che potenzialmente sono pericolosi per noi anzi questo è persino benefico rispetto a quelli che potrebbero uscire questi virus se l'ambiente è in equilibrio non vengono fuori rimangono là questo è il mio punto di vista personale sono d'accordo poi secondo me è importante perché mentre si fa l'azione in qualche modo si diventa consapevole quindi la consapevolezza del problema non dico che sia metà della soluzione però è un primo passo importante dico anche un suggerimento io usate il meno possibile l'automobile soprattutto se è un'automobile inquilante fa bene anche al sistema cardiovascolare non usarla quindi fa bene a noi doppio beneficio mezzi pubblici e facciamo pressione sui nostri governi pressione sui nostri governi per cambiare paradigma cambiare modo di vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti